Più di una volta hai visto sparire il tuo lui senza un apparente motivo. Cara malgasciona, se sei stata in questa situazione di aver visto il tuo lui sparire senza un apparente motivo, e questo è interessante da tenere presente perché apparente, perché in realtà i motivi ci sono sempre, è perché non è un problema suo, ma è un problema tuo, non un problema che si è sbagliato ovviamente, perché ogni di noi è perfetto per com'è, ma non hai saputo mettere in atto la giusta comunicazione, non hai saputo utilizzare al meglio la comunicazione per conquistare, per tenerlo un uomo. Allora, quali sono le motivazioni in realtà profonde che fanno sì che un uomo sparisca così, si sciolga come nebbia al sole? Beh, allora, ci sono fondamentalmente un po' di motivi che devi prendere in considerazione di comportamenti errati che hai sicuramente messo in atto. Il primo comportamento errato è quello di essere eccessivamente gratificante, ma essere gratificante al limite della, diciamo, della gelosia, della possessività, essere una rompimaroni. Ecco, se sei una rompimaroni e vai a intaccare direttamente la parte logica, molte donne non se ne rendono conto, ma fanno degli interrogatori, no? Quando hanno proprio questa modalità operativa, quando, che ne so, un uomo riceve una telefonata, e chi era al telefono? E con chi parlavi? E come mai? E stavi messaggiando? E con chi messaggiavi? E qua e là, insomma, scassano i maroni in maniera conclamata, e quindi è evidente che questo mette in fuga il maschio. Lo mette in fuga perché la sua vita diventa una vita d'inferno, no? Cioè, poi tra l'altro questo lo spingerà soltanto a raccontarti delle palle. Poi quando tu più romperai i maroni, come dire, come una molla che si carica, e a un certo punto questa molla esplode e lui se ne va. Ma tu dici, ah, senza apparente motivo. Ma in realtà il motivo c'era nella tua rottura di maroni. Secondo motivo è un eccesso di gratificazione. Questo di sotto non porta, diciamo, alla fuga vera e propria. Porta però normalmente al fatto che ti terrà come, diciamo, una ruota di scorta, insomma. Spesso in questi casi può nascere una sorta di sodalizio, soprattutto se c'è una relazione consolidata magari di convivenza, matrimonio, figli, eccetera. Di solito porterai le corna, diciamo, ma difficilmente in questo caso sparirà. Sparirà non appena poi incontrerà una persona che invece, a differenza tua, anziché gratificarlo, lo penalizzerà. E questa è un'altra motivazione che accade molto spesso. Quindi in realtà l'altra donna non sarebbe entrata se tu gli avessi generato delle tensioni emozionali. Perché noi siamo sempre soggetti a tensioni emozionali. Cioè abbiamo bisogno di situazioni, persone che ci generano tensione emozionale. Senza tensioni emozionali non siamo nulla. Non riusciamo a fare nulla. Non riusciamo a distaccarci. Questo è comunque un qualcosa che devi prendere in considerazione. Un altro motivo per cui sparisce senza, diciamo, colpo ferire è che si è creata nel tempo una distanza emotiva di cui tu non ti sei resa conto, ma si è creata una distanza emotiva. Lui si è creato altre relazioni, altre cose. Questo capita poi spesso perché tu non ti rendi conto che c'è questa distanza emotiva, non te ne rendi assolutamente conto perché ti sembra normale. Ma devi e non hai imparato a osservare, ad esempio, i cambiamenti di abitudini. Quando ci sono dei cambiamenti di abitudini, per dire fa una cosa che prima non faceva, ovviamente, come dire, cambia modalità di rapportarsi con te. Prima magari era poco gentile, diventa più gentile. Insomma, ecco, quando ci sono questi cambi di abitudini che non sono giustificati da qualcosa di oggettivo, per dire, ha cambiato lavoro, è ovvio che dovrà cambiare magari l'orario, ma se lui ti lavora sempre lo stesso, ti dice che sì, ho cambiato orario, qua, là, insomma, ci sono delle cose poco chiare che tu fondamentalmente non vuoi vedere, perché poi le persone non vogliono vedere, è perché c'è un'altra donna di mezzo che ha preso il tuo posto. Quindi, per evitare di finire, diciamo, in una situazione in cui lui sparisce senza un apparente motivo, ma in realtà il motivo c'è, deve imparare a mantenere nel tempo, a effettuare nel tempo la cosiddetta manutenzione del rapporto. E la manutenzione del rapporto, come si manifesta? La manutenzione del rapporto si manifesta somministrando sempre e continuamente delle tensioni emotive, continuamente nel tempo. Quindi è ovvio che la passione diminuirà, ma un modo per fargli riaccendere la passione è fargli le corna, o comunque, magari non fargliele fisicamente, ma dargli l'idea che ci sono altri maschi, che tu potenzialmente potresti andare con altri, che ci sono altri maschi interessati a te. Ecco, questa situazione fa sì che questa persona sentirà, diciamo, istintivamente il desiderio, ma sentirà anche il desiderio molto forte di cercarti, sentirà anche il desiderio molto forte di desiderarti, e quest'uomo sarà sempre di più coinvolto nei tuoi confronti. Quindi, tieni presente questi fatti, queste situazioni, se tu vuoi coinvolgere un uomo, fargli innamorare, non devi assolutamente mai far scendere le tensioni emozionali. Quindi ci devono essere sempre degli antagonisti presenti, devi diventare tu imprevedibile, non devi aprirti mai completamente, e nel tempo cerca di cogliere però quelli che sono i cambiamenti per poter porre rimedio, perché porre rimedio è un fatto fondamentale che devi portare avanti se vuoi raggiungere dei risultati importanti nella tua vita. nella tua vita sentimentale effettiva, altrimenti, come dire, sprayerà come nebbia al sole, e tu dirai, ma perché? Gni, 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 ma in realtà le motivazioni ci sono e sono ben definite. Nulla accade se non c'è una causa, o più cause. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, e ti ricordo di iscriverti al canale.